Un cordiale saluto e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV al nostro appuntamento con l'informazione. Il telegiornale questa sera si apre con un brutto incidente, un gravissimo incidente che è avvenuto nel pomeriggio di oggi ed è verificato intorno alle 17 nell'incrocio tra via Campanella e via Galilei a poca distanza dal Codma di Rosciano di Fano. Convolte un'auto, una Rover 25 condotta da un fanese di 76 anni, Franco Pace, e uno scooter MBK Booster sul quale viaggiava una donna di 54 anni, Patrizia Perugini. Ai soccorritori del 118 le condizioni di quest'ultima sono apparse subito gravi, tanto che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ancona che è atterrata di fronte all'ingresso del centro Orto Frutticola. Orto Frutticola ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Torrette con un trauma cranico e la dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Fano. Anche se da una prima ricostruzione pare che si tratti di una mancata precedenza da parte dell'automobilista 76N. E purtroppo questo incrocio è un incrocio molto pericoloso nel quale gli incidenti purtroppo avvengono quasi ogni settimana con molta frequenza. E questo ce lo confermano anche le persone, i residenti, che hanno prestato anche oggi i primi soccorsi ai feriti. Troppo spesso, troppo spesso succedono, grosse, grosse, una più dell'altra. Ecco, ha sentito qualcosa? È stato un gran botto, ero dentro, facevo da mangiare, questo era un altro incidente. Sono uscita, già era tutto per terra, tutto pieno di sangue, si lamentava, la spalla era tutto dietro così, era un macello, insomma, guarda, una brutta cosa. Siete un po' preoccupati, voi siete a ridosso qui della curva? Siamo preoccupati, in un'altra ne capita qualcuna, noi curiamo sempre, ma da bere non si può dare, così gli diamo, non sappiamo cosa fare, però fa brutto un bel po'. Li vedete spesso, questi chioppi qui? Eh, purtroppo sì, purtroppo sì, ci sono tanti incroci pericolosi, ci sono tanti incroci pericolosi. Questo incrocio ormai è una croce, più che un incrocio, però non si risolve, ma dovrebbe essere anche una cosa facile, ma non c'è verso. Non c'è verso, dice questa persona che abbiamo intervistato, è una croce più che un incrocio. Credo che a questo punto davvero bisognerà fare qualcosa, perché tra l'altro noi abbiamo la sede proprio qua vicino e quindi siamo quasi testimoni diretti. Tutte le settimane ci sono incidenti e ora, forse qualcuno dirà, è ora passata, di fare qualcosa, una rotatoria, non lo so, però prendere dei provvedimenti. È stato rinnovato oggi in Prefettura a Pesaro, nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il protocollo d'intesa per il potenziamento del coordinamento delle azioni di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale. Le misure sono quelle già adottate lo scorso anno. Sono previsti in particolare, da parte delle forze di polizia, interventi di controllo anche congiunto, mentre le associazioni di categoria si impegnano a segnalare fatti di evidente irregolarità. I comuni sensibilizzeranno invece le associazioni rappresentative delle comunità straniere per favorire la diffusione della cultura della legalità. Per la pianificazione dei servizi, già in corso dal mese di luglio, il questore continuerà a istituire un tavolo tecnico per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi. I risultati conseguiti saranno costantemente monitorati da un tavolo di coordinamento istituito in Prefettura. Ed ora parliamo della situazione pesante che si è venuta a creare tra l'Associazione dei Maestri Carristi e l'ente carnevalesca di Fano. Quella tra ente carnevalesca e l'Associazione Carristi ormai è guerra aperta, gli uni contro gli altri con visioni e prospettive diverse. Carnevalesca arroccata sulle sue posizioni e le manette del vapore su avanti tutta e i carristi invece che continuano a chiedere a squarciagola un tavolo a più parti per una progettazione condivisa sul futuro del carnevale, per farlo crescere e sviluppare. In mezzo ai duellanti, a soffrirne, proprio lui, il soggetto del contendere, l'attore principale, il carnevale. La rottura non l'abbiamo creata, la rottura è venuta. Noi abbiamo fondamentalmente chiesto ripetutamente alla carnesca un tavolo a cui ci siamo seduti, ma da questo tavolo non è mai uscito nulla di costruttivo, anzi per cui questa rottura è stata una conseguenza. Dobbiamo metterci tutti quanti insieme a un tavolo e fare un progetto di rilancio del carnevale e della città stessa. Quando vai a vendere un prodotto fai prima il progetto da presentare e poi dopo cerchi anche i finanziamenti per poterlo realizzare. Qui si parte un po' al contrario, si aspettano i finanziamenti e poi in base a quello che c'è si fa. E noi pensiamo, tutti i carristi uniti, è una bella cosa questa, siamo tutti uniti, che invece tocca fare prima un bel progetto e poi si va a venderlo in giro, a risponso. I carristi uniti come non mai non vogliono che il carnevale muoia, questo è certo, perché i carri per loro sono l'essenza del carnevale, l'anima vera che fa stare con il naso all'insù in attesa dei dolci lanciati o meglio gettati proprio dai carri. Il carro di carnevale è il seme, è l'origine, l'essenza prima del carnevale, nella quale i giovani e vecchi carristi cercano di esprimere quella cultura popolare della gente di Fano che altre città ci invidiano e questo è il significato. Se mancano i carri è praticamente come dire che il carnevale muore. Siamo alla guerra, carri contro caramelle, risultato? Niente bozzetti e niente carri nuovi e si prospetta un carnevale dal sapore riscaldato per il 2016. Noi vogliamo partecipare alla redazione di un progetto ottimale che va da regime nell'ambito triennale o quinquennale, poi lo decideremo insieme, e lo vogliamo costruire non con progetti preconfezionati che ci vengono da una direzione egocentrica che non vuole nessuna partecipazione, ma da un tavolo dove si devono sedere i rappresentanti del commercio, i rappresentanti del turismo, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, politici e anche tecnici. E insieme ai carristi e alle altre andare a trovare anche quegli sponsor, quelle collaborazioni, quei finanziamenti che possono avviare un progetto di investimento vero. Noi proponiamo un progetto per la città, non proponiamo solo coriandoli. Nei prossimi giorni in Carnevalesca ci sarà una riunione, forse anche più di una, quindi naturalmente vi terremo aggiornati. Adesso invece andiamo al mare, perché questa mattina alle 7.30 c'è stata una tromba marina, una tromba d'aria marina che un nostro telespettatore, Michele Longhini, ha ripreso dal molo dell'Arzilla e ci ha poi inviato. All'orizzonte, come vedete, ci sono i cumulonembi, queste grosse nuvole dalle quali scende a un certo punto appunto verso il mare una linea sottile che all'altezza dell'acqua si espande creando un vortice. Non è raro vedere questo spettacolo della natura sulle nostre coste, nei nostri mari, nel nostro mare, anche se di questi tempi, visto il cambiamento climatico in atto, c'è sempre un po' il timore che eventi del genere possano da innocui diventare violenti, come già accaduto qualche settimana fa nel nord Italia. Il rischio che la tromba d'aria marina questa mattina potesse toccare terra è sembrato subito remoto, ma anche se la direzione in cui si muoveva per alcuni minuti era quella della costa. E come dicevamo, non è raro assistere alla formazione di queste trombe marine, così come hanno raccontato ai nostri microfoni alcuni avventori del porto. Lei l'ha vista stamattina? Stamattina no, per dire la verità, ma l'ho veduto. Le hai viste? Con le petroliere. Ah, lei andava sulle petroliere? Sì, era di rave, il fra diavolo si chiamava. Ah, quindi una stazza importante. Sì. Voi facevate anche voi a evitarle o...? No, con i peschereggi sì, è capitato che faceva il nuvolo, lo vedevamo quando c'è il lampo. Ah, ecco. Allora scappa dall'altra parte. E via, meglio evitare anche per voi. No, no, non è che ce ne riuscivamo a portare, coperta e portava via tutto. Tutto quello che c'è. Ecco. Lei è capitato di vederla una tromba d'aria su una nave? Sì, da lontano proprio. Da lontano. Insomma, non è simpatico? No, no, è brutto. Meglio fuggire. Ah, dai fuggire. Affoggia. Come sono? Eh, come sono? C'è il segnale, diciamo. Nella notte, bianca, si vede questa tromba marina che cala, hai capito? E allora con gli inquadri, con il timone, vedi che movimento fa, o barra sinistra o barra destra a seconda da come si... Ah, eh, siccome si muove. Si muove, sì. Ma sono pericolose, sono... Sì, sono pericolose, perché se ti prende, ti scoperchia tutto, ti solleva, insomma... Eh, non è il massimo della vita? No, assolutamente no. Lei le ha mai beccate? No, per fortuna. Le ha evitate? L'abbiamo evitate, se no c'era di che beccarle, diciamo, se non stavi all'erta. Dalla costa si sono veste parecchie volte. Comunque è un bel fenomeno, cioè, al di là della pericolosità anche, vederle... È bello vedere, ma è pericoloso. E andarci contro, insomma, non è piacevole. Ah, Senegaglia, due anni fa, è andata a fondo alla barca. Sì, eh? Noi pescavamo, è andata a fondo, roba di 20 chilometri. 20 chilometri, l'avete vista quindi mentre... Noi non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo vista, non l'abbiamo vista, perché qui si lavorava e lui è andata a fondo. Perché comunque quando c'è, capito, a peso c'è una troma d'aria, a Fano non c'è niente. È così che succede. Bisogna stare all'erta. Quante volte l'avete vista qui a Fano? Eh, sai, in tutta la... sarà 40 anni che andavo in mare, in 40 anni è capitato diverse volte. Più d'estate o d'inverno? No, più d'estate, quando si scontravano l'aria fredda con l'aria calda, si creava. Il signore prima ha detto che le ha evitate molto scaltamente, anche voi le avete evitate? Cerchi di evitarle, perché quando le vedevi che si allungavano da una parte, te andavi dall'altra parte, perché sono... Che voi vi ricordate qualcuno invece ha passato brutti momenti? No, i momenti li hanno passati, ma no, Fano dalle altre parti sentivi a dire che se ti prende ti porta via tutto, è anche a bordo. Qui da noi la nostra marineria non ha mai avuto? No, almeno i vecchi di una volta non lo so, ma le nostre generazioni no. Cerchi di evitarle molte volte e non fa tanto bello. Buone notizie, buone notizie da Aset Spa, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la semestrale che verrà presentata nella prossima Assemblea dei Soci, i dati più significativi, il risultato anteimposte è pari a 1.850.000 euro. I costi per l'acquisto delle materie prime e per le prestazioni sono diminuiti del 12%, pari a circa 800.000 euro rispetto ai budget approvati. I canoni e gli affitti sono diminuiti del 12% rispetto allo scorso periodo del 2014. In calo anche le rimanenze, è rimasta sostanzialmente invariata la spesa per il personale interno, poco più di 5 milioni nel primo semestre dell'anno, mentre sono cresciute del 4,9% il costo delle prestazioni di servizi per la gestione della raccolta differenziata. E proprio sul fronte della raccolta differenziata i dati sono particolarmente incoraggianti. A Fano ha sfiorato il 72% con una crescita rispetto al primo semestre del 2014 che era di 70,5%. A Pergola è passata dal 30% al 62%, mentre è stabilmente oltre il 70% negli altri comuni serviti appunto da Aset Spa. E torniamo a parlare adesso delle trivellazioni in arrivo nel mare Adriatico a largo di Ancona. Perché c'è un movimento che da alcune settimane, anche a Fano, sta raccogliendo firme per promuovere alcuni referendum, tra i quali anche quelli che riguardano appunto le trivellazioni in mare. Sono state previste dal decreto Sblocca Italia otto piattaforme, 34 pozzi petroliferi per un totale di 1127 km2 di mare utilizzato. Ma il petrolio è poco. È stato stimato non da noi, ovviamente dai tecnici e dagli scienziati, che l'esaurimento di questa quantità di petrolio disponibile coprirebbe il fabbisogno energetico di poco più di un anno. Ed è un tipo di politica ambientale che mette seriamente a rischio il nostro mare. Mette seriamente a rischio l'ecosistema, mette seriamente a rischio la biodiversità, mette seriamente a rischio l'industria, l'economia, perché crea gravi danni al turismo, crea gravi danni alla pesca. Utilizzare il mare, trivellare il mare, crea il fenomeno della subsidenza, cioè l'erosione, l'abbassamento del suolo. Quindi voglio dire che rischiamo che le nostre belle spiagge finiscano e non ci siano più. E ovviamente non abbiamo più pesci, non abbiamo più possibilità di sviluppare la pesca. E questa cosa può creare anche dei terremoti. Abbiamo attivato una campagna referendaria con otto quesiti che riguardano quattro temi molto importanti. C'è una campagna referendaria, cioè di raccolta firme per poter indire referendum su tutta Italia. L'associazione è possibile, sta raccogliendo firme in tutta Italia già da agosto, da questo mese di agosto. A Fano siamo presenti, in Corso Matteotti, davanti al Palazzo Cabuccini, in tutti i giorni di mercato. Quindi il mercoledì e il sabato, dalle 10.30 alle 12.30 circa, siamo lì con i banchetti, con i moduli per poter raccogliere le firme. E anche in comune si può andare nel segretario comunale per poter firmare. E in tutti i comuni della provincia, quindi anche dell'entroterra, chi vuole può andare nel presso proprio comune a firmare questi referendum. Occhio alla notizia finisce qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. A domani. A domani. Grazie a tutti.